Un saluto a tutti da Edoardo Ferrara di Trebimeteo. Diamo uno sguardo alle prime tendenze per il primo mese dell'inverno, quindi nel mese di dicembre, facendolo da una panoramica europea. Notiamo come avremo una circolazione mediamente depressionaria sul Mediterraneo, centro-occidentale, quindi dovrebbe trattarsi di un mese mediamente instabile e piovoso, sebbene intervallato con delle pause anticicloniche asciutte, ma non particolarmente durature. Questo è a causa della continua discesa di aria fredda dalle latitudini artiche sull'Europa centro-settentrionale che appunto dovrebbero andare ad alimentare numerosi fronti nuvolosi. Il contesto climatico sarà piuttosto freddo nella fattispecie al nord, in misura invece più marginale al centro-sud dove anzi a tratti potremo avere il richiamo di venti più miti di scirocco o libeccio. Ma si tratta ancora appunto di una linea di tendenza che necessita di molte conferme che potrete consultare sul sito travimeteo.com